Non è vero, per l'inizio, è la prima volta in Sanremo, certo? Sì, è la prima volta, è sempre bello quando hai iniziato una campiontita bene. Per noi non puoi vincere la regatta per il giorno 1, ma puoi perdere, quindi è molto bello di mettere una buona performance. Stiamo lavorando su alcune cose specifici e i risultati sono separati, quindi stiamo iniziando a perdere. E spero che oggi possiamo continuare a migliorare come la regatta continua. Sì, vogliamo mantenere il vostro bambino per la settimana? Sì, credo che tutti sono qui per provare a vincere queste campioni o metà. Per noi è bello essere in posizione in cui siamo in. Ovviamente abbiamo molta esperienza e non è la prima volta che stiamo usando il bambino, ma è bello avere un buon start. Siamo attraverso il nostro tempo qui. È un luogo fantastico, le condizioni sono incredibili e credo che tutti stanno attraverso quello che la settimana ha per offrire. Grazie. Grazie.